basta basta abbiate pietà di noi basta aiuto aiuto svegliatemi da questo incubo non ci credo non ci credo non ci credo basta la pagnolada alla pannolada pagnolada pannolada come cazzo si dice via basta 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 buongiorno ragazzi ciao a tutti io guarda provo veramente talmente tanto sdegno che io non ho più veramente non so più cosa dire non so più cosa cosa pensare 13 partite 13 punti sesta partita sei in queste 13 partite 66 punti sei partite dove non fai un gol su azione una cosa veramente deprimente un primo tempo primo tempo da 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 metterli veramente tutti al gabbio questi cioè dei questi devono dai loro stipendi devono rimborsare tutti quelli che sono andato nello stadio compresi quelli che hanno fatto l'abbonamento in tv per guardare uno schifo del genere oggi parlo sia di juve che di milan con uno spettacolo da schifo io vi voglio raccontare questo aneddoto quando la juventus fa la finale di champions league a manchester contro il milan io ero lì in tutta la città di manchester c'erano le locandine manifesti chiamate come volete dell'evento della partita c'era finale champions league c'era lo scudetto del milan lo scudetto della juve e sotto invece di esserci scritto juventus e milan c'era no football no football ecco questa è la locandina della partita di oggi soprattutto del primo tempo perché poi arriviamo secondo tempo no football no football io dico con quale coraggio voi fate una partita del genere è veramente veramente da denunciarvi questa è una partita da denuncia perché non si può accettare una cosa del genere non si può accettare una cosa del genere voi dovete rimborsare tutti i tifosi che hanno speso soldi per vedere questo schifo è veramente una cosa assurda è veramente una cosa assurda nel secondo tempo ripartito con la stessa schifezza del primo tempo quando la juventus fa i cambi entra chiesa chiesa da un po di brio alla partita e cominciano a arrivare qualche occasione da gol per inerzia per per non sanno neanche loro come ma la juventus alla fine forse meritava di vincere perché almeno due tre occasioni le ha create e poteva far golli c'è giocato proprio in extremis perché doveva giocare magnan che si sarà fatto male in allenamento nel prepartita e gioca sportello che salva il milan ma anche se la juventus faceva gol non toglie nulla non toglie ma proprio niente allo schifo che si è visto questa sera secondo tempo sì la juve poteva far gol effettivamente la juve poteva far gol ma mai che schifo io veramente non so cosa non so cosa dire quando è entrato chiesa è passato il 4 3 3 e lì è cominciato a vedersi qualcosa come si sono viste le due partite precedenti poi giustamente dieci minuti questo dura dieci minuti col tridente esce il diz mette miretti poi ci arriva quell'occasione che non è un'occasione quella che praticamente ci mangiamo una doppia occasione con rabbiò e con meccanico per testi meccanico perché sul coppia testi meccanico il fuorigioco di milic e anche se facevamo gol rabbiò che lì si mangia un gol clamoroso ma anche se faceva gol sarebbe stato annullato perché c'era sia milic sia rabbiò sul coppia testi meccanico erano tutte e due fuorigioco il resto lo schifo la 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 vergogna delle vergogne io ormai non vedo l'ora che finisce sto campionato e che questo si tolga io parlo per me indegno anche pioli ma almeno loro hanno la scusa che gli mancavano tre quattro cinque giocatori caro allegri ti ricordi quando dicevi no che avevi perso perché ti mancavano quattro cinque titolari no al milan almeno c'ha quella scusa che oggi gli mancava tutta la difesa completamente e più un centro capista se non ricordo chi comunque quattro giocatori li mancavano al milan compreso magnan quindi mancate ornanda ci mancava magnan e gli mancava calabria li mancava tomori e non so se forse gli mancava un altro almeno loro hanno questa scusa noi eravamo al completo io è veramente è veramente liberateci dal male e liberate liberate il calcio da questi personaggi liberate il calcio da questi personaggi io a nome di 22 mil 20 milioni circa di tifosi fra giuventini e milanisti chiedo scusa il calcio per lo schifo lo spettacolo indecoroso che si è visto oggi in quel di torino fra due squadre che veramente fanno schifo fanno schifo sono la faccia dei loro allenatori la faccia dei loro allenatori fra i due visto che dobbiamo parlare dei risultati almeno negli ultimi tre anni pioli vince uno scudetto alleghi non vince un cazzo se non forse forse vedremo una coppa italia che non conta nulla per me la coppa italia non è mai contata nulla e non conta nulla anche se la vince quest'anno mettiamole bene in chiaro le cose perché vedo tanti giuventini che non vedono l'ora di vincere la coppa italia per trasformarla in champions league non vale un cazzo abbiamo se la juventus l'ha sempre snobbata la coppa italia l'ha sempre snobbata a torto ragione non mi interessa però questa è la verità va bene comunque detto questa che quella è un'altra un'altra un altro schifo che vedremo qui là io sono veramente disgustato da quello che ho visto oggi a parte ripeto un po nel secondo tempo ma non per idee di gioco ma perché butti la palla lì davanti il milan bloccato completamente senza difesa completamente e noi con le tre punte andavamo a nozze perché creavamo qualcosina in più ma non c'è nulla di costruito palloni buttati lì davanti sperando che qualcuno la prenda la butta dentro questo è il succo di questa partita di merda uno schifo nello schifo sopra lo schifo basta 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 fate il comunicato oggi è arrivata la notizia addirittura che se una delle due italiane dovesse vincere la champions league ne vanno sei ne vanno sei in champions league siamo già in champions league cacciate questo elemento da sulla panchina voglio vedere una squadra che gioca a calcio poi se vince bene se pareggia bene lo stesso se perde mi incazzo ma almeno vedo giocare a calcio va bene perché tanto 13 punti in 13 partite neanche la salernitana retrocessa è riuscita a fare peggio sei vergognoso fino alla fine allegri out vattene da torino grazie